ehi la turma ancora qui insieme con expeditions conquister questa volta siamo in una battaglia contro dei cannibali siamo appena sbarcati praticamente ci siamo trovati questi qua che ci seguivano e purtroppo finiamo in battaglia allora uomo d'arme veterano uomo d'arme trappola questo sciamano dovrebbe essere un curatore guerriero 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 allora non sarà banale che sono più di noi 3 3 6 e 2 8 e in tutto questo non siamo riusciti neanche ad accamparci allora quasi di preparazione lo rimetterei l'esploratore qua che corre soldato qua e i cacciatori però qua non abbiamo linea di tiro però eh e di là non si passa quindi dovranno per forza passare da quella parte la per cui cacciatori li metterei qua dietro in realtà questo tanto può correre il medico sta sulle retrovie vada cerchiamo di bloccare la situa no al medico lo tengo qua un po' arretrato tanto in un turno non dovrebbero arrivare là i cacciatori se riesco li metto qua dietro in modo che possano prenderli i cacciatori dal lato mentre me li imbangaggiano corpo a corpo e qua allora non dovrebbero riuscire a darmi arrivarmi in faccia però nel dubbio facciamo un difesa perfetta se tentassero di attaccarmi vada ok intanto movimento cioè li hanno usati tutti i movimenti praticamente mancato ma perché sta facendo il doppio tiro ok molto bene aia non bene non bene non bene quello è stupido perché fa tutto il giro dell'oca mettendo gli altri davanti prima quello sta facendo il giro lungo allora qua abbiamo un po' di casini più che altro perché questo è messo un po' male allora andiamo a curarlo intanto subito non ha altri effetti no per cui poi gli metto questo no aspetta questo lo mettiamo qua davanti e gli facciamo sparare su allora questo è lo sciamano a un 86 proviamo il doppio no andiamo col singolo ok molto buono metterei quest'altro qua vediamo chi vede da qua questo lo vede veterano trappoliere non mi piace veterano guerriero uomo darmi trappoliere uomo darmi sciamano anche questo potrebbe darci filo da torcere ehm adesso questo proviamo a tirare giù questo se possibile ok adesso il turno è storiamo questo che non ci faccia l'attacco di opportunità e con questo tiriamo giù quest'altro andato ok tu riesci a tirare il pugnale per caso? si a quello si manca quell'altro direi su questo qua no ah la copertura totale su di lui allora andrei su questo qua molto bene adesso dovrei aver usato le azioni di tutti se non sbaglio il medico magari lo metto ancora indietro per non rischiare che di avere delle brutte sorprese e anche loro in realtà potrebbero arretrare leggermente modo da essere meno esposti ok eh tanto bene vi lascio la mano addosso ahia invece ho la cura del medico se non è l'altro dietro cavolo porca miseria ahia attacco d'area eh il mio cacciatore ha messo molto malino in questa situazione eccala anche il tizio ci voleva no non mi seccare il cacciatore no me lo seccare ok allora tu fai cura anche se non so quanto lo possa tenere su in vita perché c'ha tutto intorno allora con questo mi conviene andare qua dietro così che abbiamo il flanking su di lui ok non lo tiriamo giù però magari riusciamo al prossimo turno a meno che no con questo devo però forse sparare all'altro che ho davanti tiro di opportunità no ma forse è solo sulle abilità che si attiva il tiro opportunitario sui movimenti ahia questo ha troppa gente intorno critico ottimo eh però c'è ah no vedi sull'attacchi base c'è il tiro di opportunità niente c'è crepato ho sbagliato tantissimo ah faccio un flanking su di lui ok e là è un po' un casino ma devo restarlo ma adesso c'ho tutti addosso dai me lo secca me lo secca eh cosa fareva niente è persa la battaglia mi sa dagli beh perché non gli ha dato addosso l'altro allora stor direi questo perché ho bisogno di andare a tirare giù questi altri qua ah ok si lui può tu no allora spostati qua ah no lui non può vabbè facciamo così eh vai così non è una buona situazione proprio per niente lui non può fare nulla può restare l'altro si può restare l'ultimo cacciatore che è andato giù però si prenderà il tiro di opportunità probabilmente un attimo dopo tira giù prima di andare addosso ahia ma perché il mio non gli ha fatto il tiro di opportunità ah forse perché l'ha fatto il doppio movimento cavolo sti cacciatore mi stanno mettendo in seria difficoltà e siamo con il massimo dell'equipaggiamento tra l'altro che brutta situazione tu riesci a saccare questo un corno ok quello è andato così almeno lui ok puoi stordire l'altro ottimo così tu ti sposti qua attacchi questo allora non penso che lo seccherà però almeno non ci perdiamo un tiro di opportunità allora loro sono ancora in tre è il problema che non ho i miei cacciatori ok buono buono ho tiro di opportunità non tirarlo giù ah ha provato con l'altro ok cavolo allora devo andare a curare per forza il tizio qua gli altri li resto dopo ma in questo momento è fondamentale tirare giù questo posso tirargli il coltello ma gli fa meno danno di sicuro no per un cavolo di punto e a rischio di perderci la vita ma tu dottore vai indietro che non sia mai se tirano giù se tirano giù questo è un conto ma speriamo che non tirano giù nessuno no quello d'aria no ok allora res il cacciatore e l'altro per forza deve essere laggiù mi spiace non ho abbastanza turni per tirarlo su questo non può spostarsi però allora vai stordi a questo e tu dovresti avere abbastanza movimento per andare su di lui si tu vai qua è rischioso ma almeno ha dato quello estordito vai cavolo no restare non posso restare però posso curare lui no ce l'abbiamo fatta ma è stata tosta ha la visore pulita si ma andiamo con questa ma dai tu puoi stordirlo stordiscilo quello è già andato curare non può fare niente mare uva finic mi attira giù un altro no forse un altro no però questo ci rischia ok è andato tu puoi puoi restare su un altro no vai a curare qua lui non ci arriva lui meno che meno è andato ok è due terra però ho perso ho perso quattro di equipaggiamento è tantissimo ok il rosso era entrando in combattimento va bene ci può stare questo è l'ultimo capitano cosa ne facciamo dei sopravvissuti lasciateli stare se non ho qualcosa di utile portatelo ai carri direi vabbè abbiamo recuperato tre di equipaggiamento sono altri i razzisti hanno perso morale infatti immaginavo chi intero si rivolge il resto di soldati si passa il dito sulla gola i tuoi uomini restano a guardare mentre in servire lo vistano tra i corpi trovando utili strumenti di equipaggiamento e qualche oggetto prezioso che trasportano in carri il dito sulla gola vuol dire ucciderli ma mica li ho uccisi abbiamo trovato anche dei tesori no si abbiamo un sacco di tesori adesso ma abbiamo poca attrezzatura chi è che ha perso attrezzatura quelli che stanno male ah no tre vino ovviamente malato è quello che avevamo prima lui ha perso due di attrezzatura e chi è l'altro che ha perso due di attrezzatura chintero no ah è pintado ah togliamo l'ultimo equipaggiamento lui ok lo diamo pintado vada ok adesso dobbiamo accamparci possiamo accamparci adesso si accampiamoci poi terminiamo così il video allora mettiamo un attimo allora nell'isola la mettevamo ah cavolo devo curare la gente però alvarado e chi è l'altro che sta male tre vino prima vediamo di quelli che avanzano allora facciamo guardia abbiamo un po' di carne effettivamente che abbiamo ucciso il maialino oggi assegniamo un'unità di carne a tutti intanto poi tu come sei messo di guardia bene mettiamo prima tutti quelli di guardia tutti quelli forti di guardia ok 89% va bene poi quelli che sono rimasti liberi cos'è che abbiamo abbiamo il nostro sviluppo e il nostro pattuglia perché 0 su 7 abbiamo solo 7 erbe e le altre erbe ce l'ha tolta quando siamo andati via ah riquare equipaggiamento rotto ok vai va bene no potrei farlo fare a lui in realtà allora tu sviluppo dato che abbiamo un po' di tempo ti metterei qua su le andiamo su tenda tenda forse è meglio effettivamente anche se anche il carro è buono l'ha è quasi finita però però sull'esplorazione di legna adesso ne ho allora lo metterei qua e questo gli farei ripare l'equipaggiamento rotto non cacciamo però non è troppo grave darei non mettiamo nulla da parte ma abbiamo 205 razioni darei un doppio equipaggiamento a chi ha il morale un po' più basso mi serve il morale alto per i combattimenti per cui allora Pavlik e poi chiediamo a Iruenes dai però Iruenes ha il 9 quindi è molto difficile che gli salga facciamo che le salga il morale facciamo così e bom le difese resistono abbiamo consumato tutta la carne che abbiamo preso abbiamo recuperato due pezzi di equipaggiamento ottimo e tutti si sono rimessi perfettamente medicina tanto ne abbiamo ancora a Iosa abbiamo abbastanza esperienza tra l'altro per far salire qualcun altro di livello non ci avevo fatto caso questo sarà già così e a chi è che avevamo tolto dell'equipaggiamento no l'avevamo tolto a Ortega che vabbè mettiamo della Lue adesso chi è che possiamo far salire di livello possiamo far salire di livello tutti tutti tranne quelli powerful l'erboristeria migliora no ok migliora solo il quanto converte così farei salire di livello lui che me lo porto sempre in battaglia e potrebbe tornare inutile per aumentare la caccia o comunque la conservazione mentre invece i ceveria me lo porto sempre dietro però sta a fare guardia che tanto abbiamo già appena speso per guardia questo abbiamo anche già appena speso per guardia questo per guardia guardia e lui è un po' di pattuglia o Juan Ortega che però non mi porto in battaglia allora potenziare Alvarado no Alvarado normalmente però non è in battaglia cavolata che dico è solo il backup della battaglia forse conviene tenersi quelli che ho in battaglia tipo e ceveria o ruiz o ma i ruenes non la porto di solito in battaglia e ceveria o potrei mettergli 8 di pattuglia oppure portarlo 5 di caccia oppure facciamo invece veria lo portiamo 10 di guardia e gli metto 2 di caccia si quanto ha di pattuglia ha già 5 facciamo così allora arcono spada e e Ehm... Firoesistenza non è male Gli darei 10 punti in più Che essendo soldato non è male 10 e 2 di caccia Buono L'equipaggimento l'abbiamo messo L'esperienza non l'abbiamo più per un bel po' Adesso di sicuro Ci siamo accampati Quindi direi che salviamo la partita Con Messico 1 E io vi ringrazio per la visione Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale se per caso non vi sia già fatto Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti e buona giornata Ciao a tutti e buona giornata Ciao a tutti e buona giornata